Per me questo è un momento dove sono molto emozionato perché grazie a Edizioni Casa Grande che tradurranno il libro di Sergio De Vecchi a Enve e con la traduzione di Daniela Idra, oggi possiamo leggere degli estratti. Il libro uscirà in primavera prossima e abbiamo trovato due ragazzi, Grilledis e Nigel, che leggono i testi di De Vecchi e abbiamo anche Samara, questi tre ragazzi si sono impegnati molto nel fare questa presentazione. Samara, che pezzo hai scelto per accompagnare i testi? Il brano composto da John Thomas si intitola The Ministerial's Addio to His Native Land, quindi l'addio del minestrello alla sua terra nativa. E ho scelto questo brano perché essendo un addio, come poi verrà letto da loro, si capirà che emozioni una persona può provare a lasciare la propria terra, la propria terra nativa, quindi questo brano raggruppa un po' tutte queste emozioni. Grazie, Samara. Caro Sergio, io ho conosciuto Sergio un giorno che è venuto a prendermi quando era presidente di Integras. L'impatto che ho avuto con lui è stato subito di complicità, di comprensione, di come se parlassimo la stessa lingua, come una cosa così, insieme a Roswell, cioè una cosa è venuto a prendermi e da lì mi sto impegnando per Integras. L'ho conosciuto negli scambi, le idee come direttore d'istituto, ogni volta che parlavo con lui imparavo qualche cosa, qualche cosa di profondamente umano, di profondamente una visione delle cose semplice, per certi versi, ma con una carica d'umanità che ha tutta una serie di implicazioni. E poi un giorno, ti accendo il microfono, siamo emozionatissimi, eh? Un giorno Sergio parla del suo passato, una volta che è andato in pensione. Per lui oggi è difficile perché è la prima volta che lo fa in italiano. di parlare del suo libro. Com'è nata l'idea del libro? Torniamo indietro del secolo scorso, dove io ho trascorso 17 anni in istituto. Ci ho messo 62 anni a cominciare a raccontare la mia storia. Cioè per 62 anni ho taciuto, non l'ho detto a nessuno, la mia famiglia lo sapeva, ma i miei amici, i miei collaboratori, i miei colleghi, nessuno lo sapeva. Io mi sono sempre vergognato del fatto di essere stato portato via da bambino piccolo, da bambino di pochi giorni, in un istituto. Non so ancora oggi chi veramente è responsabile di questo atto, molto per me, molto, molto pesante per tutta la vita. E dopo, quando sono andato in pensione, mi sono detto che vorrei scrivere un libro e raccontare la mia storia, la mia storia nella vita di istituto, non solo da bambino, ma anche come educatore e come direttore di istituto. Ho fatto un lungo viaggio attraverso gli istituti, come bambino, come ragazzo, ma più tardi anche come educatore e direttore. E ci sono messo a scrivere, ci ho messo tanti anni a scrivere questo libro. Grazie all'edizione Stemfli di Berna, questo qui è il libro in tedesco, col titolo Heimweh, Nostalgia, da ragazzo a direttore. E grazie all'edizione Stemfli di Berna, il libro è uscito l'anno scorso e ha avuto grande successo nella Svizzera tedesca. E ringrazio l'edizione Casa Grande, ringrazio anche tutti i miei amici qui in Ticino, anche te Raffaele, che mi hanno dato la possibilità che ora questo libro, fra pochi mesi, esce anche in Ticino e nell'Italia del Nord. Per me è una cosa molto emozionante perché io sono l'unico dei vecchi che è andato oltre Alpe. La mia famiglia vive ancora qui, nelle vicinanze di Lugano e non so come reagiranno quando leggono poi il libro in italiano. Per me, o anche oggi, qui è una cosa molto emozionante e ringrazio tutti voi, anche i giovani, la musicista, te, che hanno fatto possibile che oggi vengano letti i primi passaggi in italiano. Il primo passaggio si tratta del passaggio di un padre fantasma. Io non ho mai avuto l'occasione di conoscere mio padre, non so ancora fin oggi chi è mio padre. E da bambino mi sono immaginato un padre per consolarmi e ho scritto un passaggio su questo tema che ora verrà letto da Luca. Io non ho mai avuto l'occasione di conoscere mio padre. Io non ho mai avuto l'occasione di conoscere mio padre. Io non ho mai avuto l'occasione di conoscere mio padre. Se la mamma si era fatta vedere a Pura, almeno di tanto in tanto, mio padre è rimasto per me completamente invisibile per tutta la vita. Non sapevo chi fosse e se fosse ancora vivo. Mi vergognavo profondamente di non avere un padre e il mio desiderio di averne uno cresceva di giorno in giorno. Così me lo creai con la fantasia. All'asilo e più tardi a scuola osservavo con attenzione i padri dei miei compagni. Nessuno era forte, bello, alto e affettuoso come il mio. Non potevano competere con il mio padre fantasma. Lui mi seguiva ovunque, parlava con me, mi dava consigli, mi consolava nei momenti più bui. La sera stava accanto al mio letto e mi dava la buonanotte. Quando dovevo tagliare i tralci nella vigna mi stava vicino, nella calura e sotto la pioggia scrosciante. Anche in seguito, quando mi spostarono da Pura a Zizzers e quasi morivo di nostalgia, rimase insieme a me. Per molti anni non riuscì ad accettare che fossero i direttori degli istituti a firmare la mia pagella scolastica. Ci andava il nome di mio padre. Anche il frontespizzo dell'attestato mi irritava. Laddove avrebbe dovuto esserci il nome del padre c'era uno spazio vuoto. Una volta ci misi Giovanni, un'altra volta Alberto. La maestra e il direttore dell'istituto mi sgridarono quando se ne accorsero. Ma io volevo essere come i miei compagni di classe, cercavo la normalità. Nessuno sapeva spiegarmi perché proprio io non dovesse avere un padre. E così con gli anni andò formandosi un enorme tabù che ricadde anche su di me. Un bambino al quale non vengono date risposte quando cerca di sapere qualcosa sulle circostanze della sua nascita, crede di avere in sé una macchia, qualcosa di sporco, di cattivo. Anche dopo aver lasciato l'istituto continuai a inventare dei nomi. Quando mi veniva chiesta la generalità di mio padre per qualche documento. E capitava spesso. Nel Ticino vige ancora oggi la cattiva abitudine di richiederle sugli atti importanti. Se il padre invita, si scrive di. Se è morto, si dice fu. A un certo punto cominciai a perdere il controllo su tutti quei nomi, ma era sempre meno grave che essere smascherato come figlio di nessuno. La cosa si faceva ancora più complicata quando dovevo presentarmi in una compagnia. Prima o poi saltava fuori, immancabile, la domanda sul padre. De vecchi, di chi e di dove? Di Arogno o Castagnola? Se avessi detto di Edvige, il nome di mia madre, per il mio interlocutore sarebbe stato chiaro che era un figlio illegittimo. Se dicevo di Mario, il mio interlocutore cominciava a riflettere, concentrato e insisteva. Odiavo quegli interrogatori. Mantenere segrete le mie origini è stata per molti anni una grande fatica. Fino all'età adulta credeti fermamente che il mio padre eroe un giorno mi si sarebbe parato davanti, mi avrebbe stretto a sé e mi avrebbe chiesto perdono per avermi escluso dalla sua vita così a lungo. Io li sarei saltato al collo e avrei dimenticato tutte le cose brutte. Avrei avuto un padre per il resto della mia vita. Dimesso dall'istituto, giravo per le strade di Lugano guardando in faccia tutti gli uomini. Magari uno di loro poteva essere mio padre. Magari l'avrei riconosciuto perché di certo ci somigliavamo. Ma non l'ho mai visto mio padre. Una strana timidezza mi ha sempre impedito di avviare delle ricerche, probabilmente per paura di essere respinto anche da lui. Anni dopo, quando io stesso avevo già i primi capelli grigi, mia madre mi telefonò. Un breve contatto dopo un lungo silenzio radio. Quel giorno mio padre era morto, a 76 anni. Era molto malato, di più non disse. Non pronunciò neanche una volta il suo nome, sebbene io glielo chiedessi. La notizia della sua morte non suscitò in me grandi emozioni. La notizia della sua morte non suscitò in me No partizia della sua morte non suscitò in me Una domenica di ottobre del 1958, a Pura, i gitanti si godevano le ultime giornate calde dell'anno. Per loro, quel luogo sopra la città di Lugano era un paradiso naturale. Non sapevano niente di noi bambini dell'istituto dietro il bosco. Vivevo lì già da 11 anni e mi ero abituato alla città di età. Pregare, lavorare, andare a scuola. La domenica guardavo dal buco della serratura la famiglia del direttore nel suo appartamento separato. I genitori, i quattro figli maschi, il più piccolo attaccato a sua madre, la nostra direttrice Clerly. A turno ci gustavamo quel quadretto intimo, ancora e ancora, prima di andarcene di soppiatto, a testa bassa. Noi non avremmo mai vissuto niente del genere. Quella domenica, però, era tutto diverso dal solito. Al di là del buco della serratura legnavano evidente agitazione. Il direttore e la direttrice erano nervosi. Nelle settimane precedenti erano successe delle cose. Una bambina era precipitata dal balcone e aveva perso la vita. Una collaboratrice era annegata. Per pene d'amore si mormora. Si era innamorata del direttore e non aveva sopportato il suo rifiuto. Inoltre, alcuni bambini avevano la diarrea e vomito, perché avevano mangiato cibi avariati. Dal buco della serratura intuivamo che in casa c'era aria di cambiamenti. La sera, il fratello di un assistente cenò insieme ai bambini. Era un amico della casa, regolarmente ospita pura. Mi piaceva e spesso gli faceva domande sul suo lavoro di macchinista di treni. Quella sera mi diede un franco. Magari avrei potuto averne bisogno, disse ambiguo. Mi infilai la moneta nella tasca di pantaloni. Prima di andare a letto, venne a sapere che l'indomani non sarei andato a scuola. Rimasi a lungo sveglio per la grande eccitazione. Girava la testa di qua e di là, come ogni sera. Solo all'alba riuscì a prendere sonno. Dopo colazione, gli altri bambini si misero in cammino, mentre io vidi sulla panchina di regno, davanti alla casa, la mia veligetta marrone tutta consumata. Arrivò una vecchia Renault. Ne è sceso un umetto gobbo. Il mio tutore, mi dissero. Era la prima volta che lo vedevo. Veniva a prendere il suo pupillo. Dovetti salire in auto, sul sedile di dietro, e partimmo. Dal finestrino posteriore vedi l'istituto scomparire. Non c'era nessuno a farmi un cenno di saluto. Anche la zia Nelly rimase in casa. Non avevamo ancora imboccato la prima curva che fui assalito dalla nostalgia. Una tremenda, tormentosa nostalgia. Era peggio di tutto ciò che conoscevo. Ora ti porto a Bellinzona, dalle suore cattoliche, disse il tutore. Per qualche istante mi illusi, perché come protestante non potevo certo andare a stare dai cattolici. Li feci notare quella evidente contraddizione, ma lui proseguì e disse soltanto che lì mi sarebbe sicuramente piaciuto. Le suore nell'istituto von Melten a Bellinzona accolsero un bambino con gli occhi gonfi di pianto. Non potevo restare, le informai. Dovevo tornare a Pura. Una suora mi prese per mano e mi mostrò il mio letto nel grande dormitorio. La mia decisione restava ferma. A cena sgattaiolai sul balcone e saltai dal primo piano. Il sole della sera illuminava le montagne. Dietro doveva esserci Pura. Cominciai a correre in direzione del Monte Ceneri e, scesa l'oscurità, arrivi ai piedi dalla strada del passo. Davanti alla locanda del posto c'era la proprietaria. Dove pensi di andare a quest'ora da solo? Mi chiese. Devo andare a Pura, a casa. C'è tempo. Ora, prima di tutto, vieni dentro e mangia qualcosa. Come ti chiami? Sergio. Entrammo in casa e lei mise sul tavolo un piatto col pane, formaggio e salsiccia e anche un bicchiere di sidro. Mangiai e bevi con avidità. All'improvviso nella trattoria entra un poliziotto. La proprietaria mi aveva tradito. Non la degnai più di uno sguardo. Con l'auto della polizia fui riportato a Bellinzona. Solo per una notte, dissero. Acquietato e stanco, mi addormentai. L'indomani sarei tornata Pura. La mia Pura. La mia Pura. La mia Pura. Quando, il giorno dopo, arrivò il mio tutore, sali nell'auto con la valigetta pronta. Lui però non mi portò a Pura. Bensì a Polleggio, nella Leventina. Sempre più lontano da dove venivo, nell'Istituto Santa Maria, un internato cattolico per studenti delle superiori. Mi impressi la strada nella mente. Un religioso con il salio nero mi diede il benvenuto. Durante il vespro nella cappella, due allievi più grandi di me mi sorvegliavano. Mi sentii male per i miasmi dell'incenso. La notte sognai le mucche nella stalla di Pura. Il mattino dopo scavalcai dalla finestra del bagno e fuggii. Poco prima di Biasca la polizia mi arrecchiappò. Il cordiale funzionario si rese conto del mio disagio. Mi regalò un pezzo di cioccolata e fece un giro con me in macchina, per i villaggi. Gli aprì il mio cuore. Alla fine si fermò per telefonare. Poi mi riportò a Pura. Finalmente a casa. Non c'erano più molti bambini nell'istituto. Dopo un po' fui chiamato nell'ufficio, dove il tutore, il direttore e la direttrice mi aspettavano. L'istituto di Pura sta per essere chiuso, disse il papà. Tutti dovevano trasferirsi, bambini e adulti. Io sarei andato a Coira, in un altro istituto di aiuta. Due giorni dopo mamma Clerly si mise in viaggio insieme a me. Questa volta avevo potuto dire addio agli animali e agli altri bambini. Ricacciai indietro le lacrime. Da Lugano andammo col telenoico a Coira, passando da Zurigo, in terza classe. Via dal Cino, dalla mia patria, in un altro cantone. Clerly parlava poco. I ferri da calza tichettavano senza sosta. Io guardavo fuori dal finestrino. Non avevo mai fatto un viaggio così lungo. La sera mi consegnò l'istituto Foral di Coira. Lei avrebbe proseguito per Zizers. Avrebbe prenotato nella casa madre di aiuta e il giorno dopo sarebbe tornata pura. Quando la direttrice preparò il letto, mi tornò in mente il franco nella tasca di pantaloni che mi aveva regalato il fratello dell'assistente. Lasciai l'istituto. Corsi alla stazione ferroviaria e per 90 centesimi comprai un biglietto. Era già notte fonda quando arrivai a Zizers. Non sapevo dove fosse l'istituto in cui prenotava Clerly. Attraversai il villaggio deserto. Ad ogni casa, con la luce ancora accesa, ascoltavo se si sentiva ancora la voce della mamma. E proprio quando stavo per rinunciare la sentì parlare. L'orologio del campanile batte alle undici e mezza. Era quasi novembre e già decisamente freddo. L'avrei aspettata lì, davanti a casa. Il mattino dopo mi avrebbe portato con sé a cura. Come un cane, mi ragomitolai davanti all'ingresso e mi addormentai esausto. Il direttore, Samuel Rufflin, mi trovò poco dopo. Clerly viene giù e mi diede uno schiaffo. Ma la direttrice di Zizers, Mammina Margherite Rufflin, ebbe compassione. Mi diede da mangiare. Mi preparò un giaciglio. La mattina dopo propose di chiedere consiglio a suo suocero, il fondatore del Dio aiuta, Emil Rufflin, che viveva nella casa di riposo lì accanto. Questi stabilì che potevo restare a Zizers. Mi misero nel gruppo delle lucciole. Ma ben presto ero di nuovo in fuga. Sui binari della fenerovia mi incamminai in direzione di Lankwart. Volevo tornare nel Ticino, passando da Zurigo. Il capo stazione di Lankwart non poteva credere ai suoi occhi quando mi vide arrivare. Giù dalle rotaie, mi gridò. Ti vuoi ammazzare? Telefonò a Zizers e il direttore venne a prendermi. Ma io continuavo a sentirla, quell'irrefrenabile attrazione perpura. Entra presi altri quattro tentativi di fuga. Mi chiusero a chiave le scarpe e io mi misi in cammino scalzo. Mi chiusero a chiave i vestiti e io partì in pigiama. Mi chiusero in camera e io scivolai giù lungo la grandaia. Il mio ultimo tentativo terminò già dopo poche centinaia di metri. I miei compagni dell'istituto, che avevano osservato la mia fuga, mi corsero dietro urlando. Ti prendiamo? E mi portarono indietro, come se loro fossero i cacciatori e io la preda. Di nuovo mi rinchiusero. I miei compagni dell'istituto, che avevano osservato la mia fuga. I miei compagni dell'istituto, che avevano osservato la mia fuga. I collaboratori del Dio Aiuta, a Zizzers, non sapevano che pesci pigliare. Che cosa dovevano fare con quel ragazzino? Pura mi attirava come una calamita. Lì c'era la base della mia esistenza. Lì si svolgeva la mia vita quotidiana. Non conoscevo altro. A Pura collocavo la mia patria e da lì ero stato sradicato senza pietà. Un'esperienza estremamente traumatica. Rinchiuso nella mia stanza, apri la finestra per svinarmela ancora una volta. Vidi giù Oscar, un ragazzino più grande che svolgeva l'incarico di stagliere. Appoggiato al forcone, sughignò rivolto a me e mi fece un cenno. Fu in quel momento che rinunciai ai miei progetti di fuga. Se Oscar poteva vivere qui e ridere, pensai, forse posso farlo anch'io. Quel breve istante fu uno dei momenti chiave della mia infanzia in istituto. Decenni dopo riuscii a rintracciare Oscar e lo invitai al convegno, in occasione del mio pensionamento. Dapprima esitò, ma poi venne e si sedette fra il pubblico. Quando raccontai questo episodio ai partecipanti al convegno, Oscar si alzò dalla sedia, come prova vivente di quanto ogni minuscolo gesto di attenzione possa essere importante nella vita di un bambino che vive in istituto. Oscar mi era accanto una seconda volta, ora che finalmente stavo per confessare il mio passato in istituto. Nel suo romanzo, Essere senza destino, lo scrittore ungherese Imre Kertesz descrive nella scena finale di grande effetto il giovane protagonista che guarda la città di Budapest al tramonto. La luce e i rumori che gli ricordano una certa atmosfera nel campo di concentramento di Buchenwald, da cui è stato liberato poco prima. E sentivo che una sensazione tagliente, dolorosa, vana, si impossessava di me. La nostalgia, scrive Kertesz. Non voglio paragonarmi a una vittima dell'olocausto, ma il processo psicologico che suscita in una giovane persona una nostalgia a fatica comprensibile dall'esterno era lo stesso. Sentivamo la mancanza di ciò che conoscevamo, anche se era qualcosa di brutto. Non mi sono mai liberato veramente della nostalgia che avevo conosciuto a 11 anni. La delusione del bambino che non viene ascoltato nel suo dolore. La consapevolezza che per le persone che chiamavo mamma e papà ero soltanto il bambino dell'istituto. Che non ritenevano necessario sostenermi in questi grandi stravolgimenti. Che a nessuno interessava ciò che provavo e pensavo. Tutto ciò ha lasciato tracce profonde. Nel 2016 ho inaspettatamente ricevuto un'email da Magri. Era una figlia del contadino che fino al 1965 curò le coltivazioni nell'istituto di Zizzers. La sua grande famiglia viveva accanto all'istituto. Caro Sergio, è strano. Dopo tutti questi anni le urla inquietanti del passato assumono un volto. Sin dalla tua consegna a Zizzers sento le urla dell'adolescente Sergio fra le lucciole. Non hai mai avuto un volto e neanche un cognome. Spesso mi sono chiesta che fine avevi fatto. Oggi mia sorella mi ha mandato un articolo su di te. Mi fa molto piacere che le urla si siano spente. Dopo così tanti anni sono venuto a sapere che qualcuno invece mi ascoltava. Che effetto fa in italiano? Fa un grande effetto. Penso, ieri e oggi abbiamo parlato insieme, ragazzi e educatori, e a quei tempi questo non c'era. Si vede nel testo. Io sono stato trasferito senza informazioni, senza spiegazioni, da un posto all'altro come un pacco. e è stata una cosa per me molto difficile. Adesso sentirlo in italiano mi fa molto emozione. Il periodo dell'ottobre del 1958, dove è successo questo, mi ha improntato per tutta la mia vita e mi ha segnato per tutta la vita. Era una cosa tremenda e sentirla raccontare dai giovani fa molta emozione. Hai rivisto tutto. C'è però Oscar, quella cosa che poi è stata molto semplice, però che è tornata. Qualcuno ti ha ascoltato lì? A me colpisce Oscar. Oscar, sì. Mi colpisce perché quasi senza parole è stato importante. Sì. Ti ha fatto... Io quella storia dell'Oscar l'ho raccontato a un convegno e uno scienziato di Zurigo ha avuto un discorso, ha avuto il discorso cosa sono le impronte che fanno sì che i giovani dall'istituto facciano i loro passi. Io ho raccontato la storiella dell'Oscar, questa piccola storia di un bambino, di un ragazzo che guarda e mi fa così, mi ride e mi fa sapere guarda, io sono qui, abbi fiducia. Era un piccolo cenno che però sono stato anch'io a cogliere questo cenno. Avevo le antenne fuori e ho cercato qualcuno che sta dalla mia parte e era proprio questo Oscar. È stato importante. Ho diventato un amico che poi ci siamo separati però 60 anni dopo ci siamo ritrovati. E Margaret? Le urla fra le lucciole? Non l'ho mai vista. Non l'hai mai vista? No, mi ha scritto la mail ma io non la conosco. però lei ti dice che le urla si sono placate. Sì, è una mail che mi è venuta io non le ho scritto però non ho mai più ricevuto risposte di lei. Capito. E dopo Zitzers cosa è successo? Dopo Zitzers. Dopo Zitzers a 17 anni sono stato espulso dico espulso dall'istituto da un giorno all'altro mi sono trovato con una valigetta di nuovo qui a Lugano erano devo dire gli anni più terribili della mia vita. Dopo gli anni 17 anni di istituto mi buttano fuori senza preparazione mi mettono in una camera e io non conoscevo nessuno ero in grande solitudine non avevo soldi ero povero era una vita disastrosa per quasi due anni qui a Lugano in questa città a Paradiso a Paradiso sì per me sì però paradiso non è Lugano e lo descrivo nel libro era una un'esperienza bruttissima che poi dopo il contatto con un assistente sociale che è venuto dalla Svizzera tedesca lavorare a Lugano che è stato lui a impararmi a farmi strada verso la mia seconda vita di istituto cioè verso l'educatore il prossimo passaggio non più così lungo si tratta proprio di questo L'allunaggio che penso adesso leggiamo con il titolo L'allunaggio la mia seconda vita in istituto cominciò nel 1968 all'età di 21 anni con un pretirocinio di un anno presso l'istituto per bambini alla materna nel grazioso villaggio cinese di Rovio sul lago di Lugano era stato l'assistente sociale a procurarmi un posto per il tirocinio nell'istituto vivevano bambini e adolescenti fra i 6 e 15 anni ascoltavo storie di madri snaturati padri violenti familiari indifferenti autorità sotto pressione erano bambini in cerca di sicurezza e felicità proprio come lo ero stato io potevo immedesimarmi e tuttavia quella responsabilità era un peso enorme per me nel mio nuovo ruolo non mi trovavo affatto a mio agio stavo dalla parte dei bambini quando questi erano puniti per un comportamento irregolare venendo rinchiusi in camera denigrati oppure solo di rado picchiati quella spontanea solidarietà mi portava il più delle volte a scontrarmi con i miei superiori successe anche in luglio nel 1969 quando gli americani arrivarono per la prima volta sulla luna la direzione dell'istituto decise che i bambini non potevano guardare la diretta in televisione un sonno indisturbato era evidentemente più importante dell'evento epocale che stava per verificarsi i ragazzini assegnati a me protestarono in vano così dissi loro che li avrei svegliati di nascosto durante la notte se mi assicuravano di non dirlo a nessuno promisero solennemente alle due li portai in silenzio nel refettorio passando accanto alla stanza da letto della direttrice insieme guardammo Neil Armstrong toccare la luna lo sentimmo dire un piccolo passo per un uomo un grande passo per l'umanità i bambini non fiatavano due ore dopo tornarono nelle loro letti sgusciando per le scale nessuno aveva notato nulla decenni più tardi mi telefonò un uomo che da bambino era stato all'ala materna mi aveva riconosciuto in un'apparizione alla tv ticinese mi parlò subito della notte dell'annulaggio e mi ringraziò per come avevo agito allora però mi sorprendevo anche a provare dei sentimenti di invidia nei confronti dei bambini di quell'istituto in cui erano già stati avviati i processi di riforma nei maschi nelle femmine erano costretti a lavorare e dopo la scuola potevano giocare a calcio o fare bricolage avevano tutta l'attenzione dei collaboratori i miei colleghi e le mie colleghe trasmettevano cordialità e gentilezza a cominciare dalla direttrice per finire con il cuoco ogni mattina si discutevano i problemi dei bambini spesso in presenza di uno psichiatra anche la sera quando loro erano a letto ci riunivamo e ci scambiavamo opinioni sulla giornata tutti i nostri sforzi erano diretti al benessere di quei bambini sarebbe piaciuto anche a me allora grazie all'acuta sensibilità tipica dei bambini cresciuti in istituto i miei protetti sentivano che non ero in pace con me stesso cominciarono a provocarmi a sondare i miei limiti Federico per esempio un ragazzo biondo di 10 anni si rifiutava di fare la doccia gli altri erano già seduti a colazione e non potevamo cominciare senza di lui da prima gli parlai con le buone ma lui reesisteva ai miei propositi educativi divenne sempre più nervoso alla fine lo colpì con il palmo della mano sulla schiena nuda Federico orlò e si scostò nel pomeriggio mentre i ragazzi dopo la scuola giocavano a calcio si presentà a scopo dimostrativo mentre scusate a scopo dimostrativo senza t-shirt tutti poterono vedere l'impronta rossa sulla sua schiena gli altri lo assalirono che cosa è stato? chi ti ha picchiato? Federico mi guardò con la coda dell'occhio ma non mi tradì Federico il bambino dell'istituto impartì al futuro educatore sociale dei vecchi una lezione che non avrebbe più dimenticato in nessun caso dovevo diventare da vittima carnefice in seguito Federico mi è tornato in mente tutte le volte che da direttore d'istituto mi sono confrontato con qualche ragazzo il cui comportamento rischiava di far saltare i nervi a noi collaboratori nonostante tutte le complicazioni il periodo del tirocinio fu importante per la mia carriera nel villaggio mi chiamavano maestro e questo mi lusingava quello appellativo mi faceva bene anche se non me l'ero meritato finalmente ero qualcuno la sera quando i bambini erano nei loro letti il più delle volte stavo seduto nella mia stanza dalla finestra potevo vedere Melide dove abitava mia madre le luci del villaggio si riflettevano sul lago scuro sentivo il bisogno di informarla dei miei progetti professionali e fantasticavo anche un po' sul fatto che sarebbe stata fiera di me mi sedetti alla mia piccola scrivania davanti alla finestra e cominciai a scrivere all'alba mi ritrovai immerso in accuseri in proveri e cominciai a scrivere e cominciai a scrivere e cominciai a scrivere Cara mamma, è notte. I bambini di cui mi occupo qui a Rovio dormono tutti. Io li sorveglio, il che mi dà il tempo di scriverti questa lettera. Sono già quattro mesi che lavoro come educatore ausiliario all'ala materna. In autunno comincerò la formazione come educatore sociale a Basilea. Una settimana fa ho ricevuto la conferma di ammissione dalla direzione della scuola. È passato tanto tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta. In fondo tu non hai idea di chi io sia. Non ti sei mai interessata a me. Anzi, mi pare di capire che tu ti vergogni di me. Nessuno dei tuoi conoscenti, nessuno dei tuoi amici o delle tue amiche sa della mia esistenza. Mi nascondi a loro. L'ho capito quando ho cercato di venire a trovarti al bar. La mia presenza per te era imbarazzante. Quanto mi piacerebbe che tu fossi partecipe della mia vita, come credo tu sia partecipe della vita delle mie sorellastre. Quanto è grande il mio desiderio di poter abitare con te, così come tutti i figli e le figlie possono abitare con i propri genitori. Ma tu mi respingi, mi rifiuti e questo mi fa molto male. In fondo potresti essere fiera di me. Ho fatto la mia strada, nonostante molti ostacoli e la mancanza dell'amore materno. E ora sono qui, in procinto di compiere un ulteriore passo di cui tu come madre potresti essere fiera. Spero che mi riesca di trattare con amore i bambini a me affidati, perché anche loro soffrono per il fatto di non avere una famiglia. Sai, sarei molto felice se una volta venissi su Arovio a farmi visita. Non sei molto lontana da me. Presto i bambini si sveglieranno e io devo andare al lavoro. Un saluto, Sergio. Dopo aver spedito la lettera, mi immaginai mia madre che veniva su Arovio e mi stringeva fra le braccia. I giorni passarono, lei non si fece sentire. In compenso si fece vivo lo zio Luigi. E a Lugano mi affrontò. Non puoi trattare così tua madre, non se lo merita, mi rimproverò. Ne ha passate tante per colpa tua. Si era lamentata con il suo fratellastro, fratello, anziché confrontarsi con me, con suo figlio. Per la grande frustrazione diedi un calcio forte all'auto di Luigi. La lettera di Arovio fu l'ultimo tentativo da parte mia di prendere attivamente contatto con mia madre. Sergio, come si fa senza avere il riconoscimento di una madre, di un padre, ad avere una visione futura? Come fai ad andare avanti? Come hai fatto? Non posso rispondere esattamente a questa domanda. Mi viene sempre chiesto come hai fatto a fare i tuoi passi nella vita, anche a diventare quello che sei diventato. Penso che una forza era in me già dall'inizio, quando sono nato, la forza che mi ha dato per sopravvivere tutte queste cose. Però non posso dirti cosa di preciso. Che cosa? Vabbè, poi sei partito, sei andato a Basilea, sei diventato direttore, hai scritto il libro. E poi che cosa è successo a Melide? Un giorno c'è stata la conferenza, c'è stato il tuo ritorno in Ticino, grazie anche al documentario di Mariano Schneider che è passato a Falò, che è stato un momento che abbiamo vissuto fortemente. C'è stata una conferenza che abbiamo fatto e lì c'è stata una signora dopo la conferenza. Penso che per la mia famiglia è una situazione difficile adesso che poi uscirà il libro in italiano. Hanno conosciuto il libro in tedesco, però non parlano il tedesco. L'hanno visto il libro, ci sono anche congratulati con me. Il libro in tedesco l'ho regalato alla mamma. La mamma vive ancora, 92 anni, e mi ha detto leggo una pagina per giorno. Sa un po' il tedesco. Però quando il libro esce poi in italiano, penso che anche per la mia famiglia è un periodo di prova molto forte. Sono anche loro che devono confrontarsi dopo tanti anni di una storia che anche per loro non è finito. Per la mia mamma non è ancora finito. E anche per le mie sorelle, le sorellastre, che anche loro sono stati in istituti. Anche loro hanno avuto una vita molto difficile. Penso è forse una possibilità di rielavorare tutti insieme questa trista storia. E il direttore d'istituto? Il direttore d'istituto, ho scritto una piccola parte nel libro col titolo Il direttore d'istituto. È anche come in principio la fantasia del padre. È anche una fantasia, cioè un pensiero a mio nonno che anche lui non l'ho mai conosciuto, intitolato Il direttore d'istituto che adesso leggiamo. Da bambino sognavo di diventare capitano di una nave, come mio nonno. Lui guidava i grandi battelli sul lago di Lugano, da Lugano a Ponte Tresa e ritorno. Mia nonna parlava di lui solo in modo sprezzante, è vero, ma per me era un eroe, sebbene non l'avessi mai conosciuto. Quella venerazione era alimentata soprattutto da una fotografia che nella piccola casa popolare della nonna stava appesa sopra il tavolo da pranzo. C'era lui con una bella uniforme da capitano. Quando andavo in vacanza dalla nonna stavo delle ore a contemplare quella foto. Mi immaginavo il nonno sul ponte di comando, con la sua giacca blu scuro ben stirata, la camicia candida e il berretto con le strisce dorate. Dorate erano anche le piccole ancore che decoravano come distintivi il berretto e i risvolti della giacca. Sicuro di sé, il capitano dei vecchi pilotava il fiero barcone sull'acqua, passando da Paradiso, dal San Salvatore, Melide e Morcote, accompagnato da striduli gabbiani. Quando attraccava, sfidava con abilità i venti trasversali, si congedava con una stretta di mano dai passeggeri ammirati. Volevo essere anch'io come lui. Dall'Istituto di Pura potevo vedere le navi di quella linea, quando poco dopo le quattro del pomeriggio curvava nell'insenatura di Ponte Tresa, dove risuonava la sirena. Suonava solo per me. Un saluto del nonno al nipote, sebbene da tempo al timone ci fosse qualcun altro. Al funerale del nonno, così mi aveva raccontato la nonna, erano risuonate in suo onore le sirene di tutta la flotta del Ceresio. Ma invece di entrare nel servizio nautico, divenne il direttore d'Istituto. Anche quello sicuramente una sorta di capitano, che a volte attraversa acque tempestose. Inoltre, la donazione d'Apples possedeva un'imbarcazione da di porto, chiamata l'Arca. Generazioni di ragazzi hanno contribuito con il loro lavoro artigianale alla ricostruzione e alla manutenzione di quella barca, insieme ai collaboratori, hanno potuto trascorrere dei piacevoli il fine settimana sul lago di Zurigo. Grazie all'Arca, anch'io rimasi almeno un po' più a lungo legato alla navigazione. Grazie all'Arca. Grazie all'Arca. Grazie all'Arca. Grazie all'Arca. Grazie all'Arca. Grazie all'Arca. Io voglio ringraziarti Sergio. Grazie.